Bentornati a tutti! Oggi mi trovo sulla spiaggia di Serapo a Gaeta e andrò a spiegarvi come ricalibrare il GPS su Google Maps, Waze o qualsiasi altra app che necessiti del GPS. È una guida molto utile quando il GPS non viene rilevato dal vostro dispositivo o non funziona correttamente. Siete pronti? Sigla! Iniziamo! Se il problema con la navigazione che hai incontrato è su Google Maps andiamo ad aprire l'app di Google e con il GPS acceso clicchiamo sul puntino blu che rappresenta la nostra posizione. Il prossimo passo da effettuare sarà cliccare su Calibra a bussola. Google allora ci spiegherà che dovremo effettuare un movimento con lo smartphone a forma di infinito per tre volte. Da come potete notare sotto troverete lo stato di precisione della bussola e una volta completata questa operazione premiamo su Fine. Se il problema con Google Maps ancora non si fosse risolto o il problema di base riguardava altre app esiste questa comodissima applicazione chiamata GPS Fix che risolverà la questione in un batter d'occhio. Apriamo l'app con il GPS acceso e premiamo su Start Fixing. Nel giro di pochi istanti l'app andrà a ricalibrare il GPS del tuo device e se tutto è andato per il verso giusto ti comparirà la dicitura Location Fixed. Adesso vedrai subito che potrai utilizzare qualsiasi app di navigazione o che necessiti il GPS senza problemi. Come sempre spero che questa guida vi sia piaciuta e di meritarmi un like. Io nel frattempo continuo a godermi il sole di Gaeta e vi aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!